Speriamo si chiuda velocemente, perché questa è una cosa pericolosa, quando si allarga il gap tra quello che gli americani dicono Wall Street e Main Street, è un problema, quando la finanza, come diceva Mohamed El-Rian, comincia a guidare l'economia, a guidare il ciclo economico, non è mai una buona cosa. Questa è stata una crisi economica ovviamente, perché si è fermato il mondo, c'è una crisi economica, la finanza è arrivata e sta aiutando, non deve esagerare la finanza probabilmente a guidare, perché altrimenti la finanza ha un turbo, è una macchina esplosiva e quindi secondo me a un certo punto si dovrebbe arrivare a tornare a chiudere questa forbice che si è aperta molto. Molto, moltissimo.